La Basilica Palladiana, un simbolo, un monumento secolare, un frammento d'arte che appartiene al mondo, ma prima di tutto a Vicenza. Il salotto ideale per ospitare i grandi eventi culturali della città. E chi l'avrebbe mai detto che, alla vigilia della più grande mostra monografica mai dedicata in Italia a Van Gogh e firmata da Marco Goldin, proprio la Basilica finisse nel mirino della soprintendenza, che ha fatto visita al cantiere, imbastito nel salone dove verranno accolte le 120 opere prestate da alcuni tra i più importanti musei del mondo? E già, la Basilica finisce sotto esame e l'amministrazione di Vicenza avrebbe ricevuto un copioso elenco di osservazioni e richieste di chiarimenti. Ci ha chiesto una serie di approfondimenti e verifiche, contiamo di darli tra lunedì e martedì della prossima settimana e francamente contiamo che siano convincenti e soddisfacenti e che quindi si possa riprendere a completare l'allestimento. Il vice sindaco Bulgarini minimizza, ma intanto il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio interviene pubblicamente riportando la notizia che la soprintendenza avrebbe negato l'autorizzazione al progetto di allestimento della mostra di Goldin perché è ritenuto al di sotto dello standard qualitativo richiesto per interventi nella Basilica Palladiana. D'altra parte c'è anche un precedente. Nel febbraio 2016, in una visita ufficiale del ministro a Vicenza dei beni culturali, visitando la Basilica, all'uscita stigmatizzò l'allestimento della precedente mostra, tra l'altro anche in parte simile a quello nuovo, invitando a maggiori controlli l'allora sovrintendente, appunto perché questo non si ripetesse. Ecco perché oggi la questione potrebbe prendere una brutta piega e siccome stiamo parlando di un monumento, patrimonio dell'umanità, la domanda è legittima. Si arriverà al fermo del cantiere? Beh, speriamo di no, sarebbe eclatante, addirittura sciagurata è l'ipotesi che tutto ciò possa avere delle ripercussioni sulla mostra che inizia ad ottobre, con investimenti di denaro pubblico e con gli occhi del mondo puntati addosso. Intanto la questione diventa politica, il centrodestra si muove, l'opposizione chiede di poter accedere agli atti delle verifiche della sovrintendenza e Francesco Rucco, di Idea Vicenza, presenta un'interrogazione in Consiglio Comunale. Vogliamo capire se i lavori sono stati fatti con la copertura o meno del parere della sovrintendenza. E già, d'altra parte stiamo parlando di un monumento che è spazio vivo, che appartiene a tutti e che merita il massimo rispetto. Doveva ospitare una mostra, invece la Basilica oggi diventa palcoscenico, teatro di questo colpo di scena di fine agosto. Noi ovviamente seguiremo gli sviluppi perché una cosa è certa, la questione non finisce qui ma continua.